Swiper, swiper, non rubare Swiper, swiper sul canale Su di me ci puoi contare Metto hype e tu sei preso male Capito, sto sciroccata Questa è 40 anni che si gioca i numeri all'otto dei tuoi morti E non vince mai un c***o Adesso stai iniziando a giocare i numeri dei morti degli altri Beh, però aspetta, potrebbe essere la svolta Sì, ma che roba macca, però gli ho detto, ma ti sciacalla Ti giochi i numeri dei morti degli altri Di quelli che muoiono le leggi sul giornale delle autostrade Ma da quando è che ti è venuta questa cosa? Gli ho detto, ti giochi la moe e fa, sì Così, così Ma che mi devo rifare i denti Ma c***o duro E si vede di fare i denti, qual è c***o di problema? Ci mancano 8 denti a mia mamma per arrivare a 10 Ciao ragazzi, ciao ragazzi Ciao ragazzi, ciao ragazzi Allora, allora, subito Raga, se facciamo un video con un argomento interessante e serio Ma perché sotto mi devi scrivere fai da Supreme Che per carità, bravo ragazzo, ci voglio bene Ma parla dell'argomento che stiamo dicendo Ma poi adesso c'è una nuova moda Fate, e poi fanno l'elenco Ma che c***o, io gli ho scritto sotto di da bere Io gli chiedo sempre i soldi Ma che c***o sei in pizzeria, è ritardato Ma a me va bene che mi scrivete che cosa volete sentire Ma l'elenco, ma che c***o sono L'elenco, l'elenco Da McDonald's, facciamo il menu adesso Sigla! Vabbè, allora ragazzi Guarda cosa ho fatto al concerto dei Matt, dei cosi Ho avuto una paura che ti facevi riferimento Nooo, al concerto dei The Roser Sì Ti uno va al concerto e ti fai qui Mi tatuo oggi giusto In giro nella terra, sporco Certo, tecchia, ho fatto questo Mi hanno detto che ho conosciuto il mio amico di quando ero piccolo Allora, vado a tatuarmi Li faccio, no, perché almeno ti faccio la promo Sì, quello è fada Guarda il canale, faccio, sì, fada Ah, ma lui mi ha ficcato una matita in una coscia Adesso, fanno venire che li tatuo gli occhi, li tatuo Ma sono cose, allora Barro, tu devi capire che sono cose che succedono Quando ero piccolo Ma tu conosci Fadaio, ci hai litigato No, 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 mi ha solo ficcato una matita La prima domanda, quando uno dice fa su quella, ci hai litigato No, mi ha solo ficcato una matita nella coscia E vabbè, allora, mi ricordo Comunque ti saluto, ciao caro Una volta Saluto bene Ciao Allora, da piccolo, purtroppo, ero un po' scalmalato Ma non per colpa Perché è scamanaccio Scamanaccio Scamaccio, vero Schiamaccio, vero Ero scamanaccio Ok Quello succedeva, ero un po' bullizzato E quindi sfogavo la mia, la mia cosa O mi dicevano, mi mandavano come sicario Se non vuoi prendere straffi Tu hai la m***a, non eri bullizzato No, ero un po' bullizzato, se no pittavo i schiaffi E io purtroppo dovevo farlo Perché E ammattitavi la gente Quello, vabbè, non mi ricordo cosa è successo Forse è per scherzo E facciamo ridere per vedere Leslie Nielsen Buttavo Ai studiati Ti buttavo le matite nelle arterie Per vedere se la graffite L'altra volta, poi, è successo Che c'era questo ragazzo che correva Correva e ha detto Adesso faccio un placaggio Corri, corri, corri Adesso faccio un placaggio Adesso lo placco L'ho placato dai piedi Lui ovviamente è caduto in faccia È caduto su una cartelletta E si è tagliato l'orecchio Bene Quindi saluto anche te Amico mio che ti chiami Testa Ma non è Christian Testa Ti saluto, scusami Come mia cugina Christian Testa No, lei è Sara Da Sobri Scuola Ecco, mi ricordo Collegandoci alla scuola Ecco qua a scuola Da Sobri Scuol 4 Scuol 4 Tra l'altro ho sentito anche Gli anti-flag Sì, è una spacca Gli spaccavano i 90 Sì, ma sono simpatici Cioè, Allegri, Katsuni Ah, certo Quanti anni avevano Antani-flag No, no, il tipo scopava un botto Ancora, il chitarrista Vabbè, il chitarrista Il cantante è un minchia Vai Ma che c***o Mickey Simpson Madonna, ricchi e morti Ah, tu sei un diavolo Ho capito Con l'aureola Dio, ma Tutti con l'iPhone gigante Mi ha fatto giù Ma sai che mi piace più Luca da di file Queste cose strecciate veloci Quando comincia la canzone Però, dove fa? Dai, la diventa come il gioco Il bulletto che... Il bulletto che... Il bulletto che... Il bulletto che... Bravo Ah Bravo Cos'è? Mi piacciono gli incastri Che mi fa E' su uno stronzo lui Sì, uno stronzo di fune Bene Bene Dai, non c'è più La canzone Ah, sommiava Alla fine è tutto il sogno Mentre ascoltava la sua traccia Vediamo chi ha fatto il video perché è molto bello Esatto La canzone studio Pietro Polentes Marta Sofia Ma Marta Sofia C'ha due nomi? È pieno di soldi Produzione Raton e Slide È pieno di soldi Marta Sofia Perché? Beh, due nomi Ah, ho capito Riccardo Galimberti Ah, Gali quindi Sì, sì Proprio Gali Ho capito Allora Allora Prima di parlare del testo che secondo me Parla, parla Ti faccio un discorso non da purista Troviamo anche dei numeri da... Ti faccio un discorso non da purista del rap Musicamente sappiamo che è un ragazzo È molto proiettato verso la musica nuova Questa roba qua Trap Tutta U Ya Dalle produzioni E da come viene cantata Lo trovo molto meglio di Danny Five Adesso facendo un confronto a Danny Five Che fa questa... Che si è messo a fare questa roba Danny Five È meno veloce Sei più sciallo Lui dice tante roba Ha un'idea Già avendo la produzione sotto mano No, ha detto tante volte la stessa cosa Dice tante roba E due frasi E due frasi, tre Però le dice Sì C'è una cosa che A livello di testo C'è una cosa che si è dimenticato fondamentale Per chi ascolta Visto che è rivolto ai ragazzini A chi va a scuola È perché è quello il target Parla della scuola È vero che anche noi ci sentivamo sprecati È vero che anch'io tagliavo da scuola Quando vedevo le f**olette Andavo a fumarmi le canne A bere le cose al parchetto Posso giocare a scuola È vero tutto quel c***o che vuoi Soprattutto bellissima la frase Il bullismo Devo vestirmi come te Per stare nel tuo gruppo Piuttosto vedi in giro nudo Quello ho sempre detto anch'io Ti sei dimenticato una cosa importantissima Perché poi chi ti segue ti emula Se da una parte a scuola Non sapevi un c***o Perché eri ignorante come una m***a E non ci andavi eccetera eccetera Non sapevi le formule Dall'altra Studiavi Studiavi le cose che piacevano a te Attenzione lui studia ancora Attento perché Stiamo parlando di un ragazzo Che è minorenne ancora Hai capito Dall'altra parte Ti impegnavi in qualcosa Mi sento sprecato a scuola Allora Bigio mi fumo le canne E l'hai finita lì No Tu tutta questa cosa Che ti senti sprecata Devi investirla Tempo, energie e studio In qualcosa di utile E poi Non che fumi le canne Ed è morta lì Sì Ma lui Ma non è che possiamo diventare tutti Tutti rapper Tu non stai parlando di serie Rivolgendo a lui No 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 Lui che magari Poteva mettere Mi senti sprecato a scuola Ma nella musica Beh però penso Quello sia sottinteso Nel momento in cui Conosci il personaggio Ha fatto le elezioni Per gente famosa Però ragazzi Non è che da grandi Diventerete tutti rapper E tutti i calciatori No anzi Il calcio al rap È una macchina Sforna st***i falliti Quindi studiate a scuola U Andate a scuola Ya Poi le put***e U La vecchi dopo Ya C'è un altro discorso da fare Prendiamo sempre l'esempio Che lui ha 17 anni Sì A livello musicale Ti stavo dicendo Che ha una concezione Come viene il prodotto finito Quindi riesce a giocare Con le liriche Con le metriche Anche con le Con gli effetti modulare la voce Molto bello Nesta beat Sì perché tu sai come finisce E poi come arriva Come produci poi Una base finale E quindi puoi giocarci come vuoi Quindi la base non l'ha fatta lui Sì credo che sia la produzione Hai detto da slide Credo che quella roba di produzione Fosse la produzione L'altro discorso da fare Adesso noi abbiamo parlato Come gli occhi Da dei trentenni Se lo guardiamo dagli occhi Da un 17enne Sì 17 anni ritardati di adesso Esattamente Quello che avremmo Ma anche Sì Ritardati come eravamo noi Come suono Come suono ritardati Ah no Non sto parlando di suono Sto parlando di Sì adesso va bene Per il ragazzino Di tematica Devi anche pensare Che uno su mille C'è la La canzone è bella È bella Anche se ti vuoi sentire diverso La cosa figa Che ho sentito in questo pezzo È la diversità Sì Il bullo E subito dopo Sono le mazzatere Se ci rispondi al bullo Lui si trasforma Tipo Tilly Boons Dei 16 barre Poi vabbè Vuola sul tasto Sto fatto di fumo Visionario Vabbè Vabbè quello è il video Noi parliamo di quello Che vuole esprimere col pezzo La diversità Cosa che tra i ragazzi di oggi E tra i rapper Che stanno spingendo L'omoglogazione Anche semplicemente Verso un brand È quasi un difetto Lui la vive Come un pregio però È stranissimo Diversissimo Da quello che dicono tutti gli altri Giusto Perché qua sono tutti diversi Tutti speciali Tutti uguali Le tipi hanno tutti i cappelli azzurri Tutti gli allargatori I ragazzi hanno tutti le balenziaga Perché se no Sai quello di Milano Figa Prima eravamo dei macro gruppi Micro gruppi Adesso siamo un gruppo unico No Sono un gruppo unico Di s*** Di cui mi faccio fregio Di non sedermi alla loro tavola Benissimo Voi avrei detto un'altra citazione Io adesso mi faccio una dose No Riccardo Riccardo Doses E il discorso che fa lui Dal suo S17enne È un po' il discorso che facciamo noi Il nostro S17enne Lascia stare il Non vado a scuola Perché mi sento sprecato Che può essere effettivamente Un pensiero Ma certo la scuola Allora la scuola è una m***a Soprattutto da vent'anni a questa parte La scuola è una m***a Venivano dall'America a studiare Il metodo di scuola italiano Talmente era figo Fino agli anni Ottanta Poi c'è stato Con il governo di Silvio È caduto tutto Era tutto a rotoli Quindi lo sappiamo benissimo Che la scuola è una m***a E i professori vanno lì Solo per tirare a fine mese Nessuno vi s***a Però a scuola Tu ci vai per studiare E devi esserti tu A capire che Ti stai costruendo il tuo futuro Ragazzi svegliatevi La scuola ci dovete andare per voi Non perché vi obbligano Da Supreme invece Il discorso che fa È un discorso di differenza Esatto Sentirsi diverso Vuole essere diverso Vuole essere io Non volere essere diverso Non volere essere diverso Però è un semplicemente essere Neanche diverso Essere io Certo Essere me stesso Non essere simbolo di una massa Di ignoranti Che si ascolta a sfere e basta Che dice Se non fai questo Se non sei questo Non sei per me Tanto sappiamo Che questi sono tutti alternativi Trapper di qua e di là C'hanno aperitivo VIP Massima spiazione Sabato sera E fa la foto col VIP Tentension Island E grande fratello Che poi non volere un m***o Perché io vedo anche Gli universitari qua a Novara Che prendono Diploma E poi vanno a farsi le foto In piazza Dove c'è Davanti alla braccia Quelle parti di davanti al Duomo Che cantano le canzoncine Che sentono il grande fratello E io dico Oddio questi sono i laureati Che troveremo professionisti Dentisti Medici Chirurghi Avvocati Magistrati Ma soprattutto magistrati Che poi si laureano Studiano a pappagallo Passano la vita all'università Con i ritardati come loro Perché studiano a pappagallo Quindi in quella Però poi a livello cerebrale Guardano il grande fratello E cantano i tormentoni Del grande fratello E io dico Ecco perché l'Italia è una m***a E questo il grande problema È che questo è L'intelligenza Scolastico Che ti porta a fare questo È l'intelligenza da una parte E la culturazione O il culturismo No? La cultura dall'altra Quindi l'apprendimento Tu puoi studiare a pappagallo Tutto quello che vuoi Ma se poi Nei discorsi di tutti i giorni Sei un ritardato di m***a Allora la cultura serve Sì per imparare un mestiere A regola d'arte Una professione E imparare delle nozioni Ma la cultura serve Soprattutto per sviluppare il cervello E il ragionamento logico E non essere una testa di c***a Che guarda il grande fratello E poi dice Io sono laureato E te sei un c***o No Io ti taglio la faccia Testa c***a Basta E te sei un c***o